Il Cristo Redentore, la statua Art Deco più grande al mondo, sorge in cima al Monte Corcovado, nella Tijuca National Forest che sovrasta Rio de Janeiro. Grazie alle sue dimensioni lo si vede praticamente da ogni angolo della città. Nel 1800 Pedro Maria Bos, un sacerdote cattolico, propose l'idea della statua, ripresa nel 1921 dal Circolo Cattolico di Rio che chiese donazioni pubbliche per costruire una statua che rappresentasse la forza religiosa del paese. Costruita quindi tra il 1922 e il 1931, la statua è alta 38 metri, incluso il piedistallo, e 28 metri è la larghezza delle braccia aperte. La realizzarono Paul Landowski, scultore, con gli ingegneri Hector Silva Costa e Albert Cacot. È interamente composta di cemento armato. Osservando ipoteticamente la sezione della gigantesca statua del Cristo Redentore potremmo vedere la struttura in acciaio e il cemento armato sotto lo strato di malta e il mosaico di piastrelle saponaria. Durante la ristrutturazione del 2010 la malta e le piastrelle vennero tolte e ripulite e furono riparate le crepe nel cemento. Un imbianchino colse l'occasione per ridipingere un braccio e la testa con colori sgargianti prima di consegnarsi alla polizia. La costruzione in cemento armato è un'opera architettonica, ingegneristica e scultorea. Con la sua posizione isolata in alto sopra il livello del mare, l'estensione delle braccia e la strana angolazione della testa, il progetto presentava numerose difficoltà. Fu già un miracolo che non si verificassero incidenti fatali durante i lavori. Alcune curiosità. L'intenzione iniziale era che il 12 ottobre 1931 durante la cerimonia inaugurale l'illuminazione della statua sarebbe stata accesa in remoto dalla città di Napoli in Italia dove lo scienziato Guglielmo Marconi avrebbe trasmesso un segnale elettrico a un'antenna a Rio de Janeiro. Purtroppo il maltempo impedì questa impresa. Nel 2008 un fulmine colpì la statua danneggiandone dita, testa e sopracciglia. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando.